La giornata di oggi è stato un momento per discutere di assistenza integrativa, cosa che noi stiamo facendo da tre anni qui in provincia di Trento. Noi abbiamo portato la nostra esperienza di un tentativo di fare un qualcosa di diverso rispetto a quello che offrono i fondi sanitari integrativi a livello nazionale, quindi noi stiamo puntando una cosa più integrata col sistema pubblico e per tutta la cittadinanza, non solo al momento per i lavoratori, ma anche per i futuri pensionati e per tutta la cittadinanza della nostra regione.